salve amici e benvenuti oggi facciamo una piccola guida su overwatch 2 su quelli che secondo me sono i migliori champion o eroi da giocare all'inizio se non avete mai giocato overwatch 2 capisco che questo video fatto nel 2022 su un gioco del 2016 che comunque è quasi identico al vecchio overwatch numero uno sembra un po strano però in effetti adesso che il gioco è gratis free to play per tutti sono sicuro che molti che non hanno mai giocato overwatch si staranno affacciando soprattutto nella prima settimana quindi mi sembra qualcosa che comunque ha un senso dato che overwatch 2 ma anche l'uno come grande peculiarità a quella della conoscenza in realtà del gioco e del posizionamento è un fps anche abbastanza competitivo se lo si gioca nelle ranked quindi sicuramente c'è bisogno di una buona mira ma in realtà non sempre una delle doti principali in realtà è conoscere un po il gioco conoscere un po tutti gli eroi cosa fanno avere un buon posizionamento sapersi muovere nella mappa e chiaramente anche avere un senso proprio del gruppo e di saper cosa fare quindi per questo ci vuole sicuramente un po di tempo ma è anche vero che ci sono sicuramente degli eroi più semplici e altri più difficili quindi ora andiamo a vedere per ogni categoria quindi tank dps e supporto quali secondo me sono i più semplici da giocare che chiaramente anche masterati possono diventare fortissimi ma di base sono abbastanza accessibili a tutti quindi vediamo un po gli eroi e cosa abbiamo a disposizione ce ne sono veramente tanti 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 sono in 35 in totale quindi sicuramente un giocatore che non ha mai giocato overwatch potrebbe rimanere abbastanza sconvolto chiaramente prima di capire bene cosa fanno tutti ci vorrà inevitabilmente del tempo però come detto alcuni sono più comprensibili e più semplici da autorizzare è fondamentale all'inizio fare una piccola disamina sul tipo di progettili progettili sul tipo di progettili di progettili che hanno perché c'è molta differenza tra i hitscan e appunto i projectile quando voi sparate potete avere queste due tipologie tendenzialmente oppure chiaramente corpo a corpo con litscan si intende che quando voi sparate mirate da un punto allo schermo e cliccate esattamente in quel momento istantaneamente colpirete mentre quando si tratta di eroi che hanno progettili questo vuol dire che c'è un tempo di attraversamento del progettile quindi ci metterà del tempo arrivare al versaglio cambierà questo tempo di attraversamento a seconda dell'eroe dell'arma e spesso e volentieri questi progettili hanno anche una parabola e questo lo dovete calcolare quindi quando ci sono gli eroi con i progettili dovete anche fare un po' di predict quindi tendenzialmente più difficile diciamo così comunque iniziamo dall'inizio partiamo dai tank ce ne sono tanti tipicamente i tank sono un po' più complessi rispetto a altre categorie soprattutto i 9 euro c2 dove c'è un solo tank nella comp standard quindi l'unico tank che gioca dovrebbe sapere un po' giocare perché è abbastanza fondamentale per qualsiasi modalità voi vogliate affrontare il tank sta davanti tendenzialmente deve proteggere tutto il resto del team assorbire più danni possibili e anche fare un po' di danno quindi il tank sicuramente è un ruolo abbastanza critico l'eroe che secondo me è tra i più semplici da comprendere anche per le sue abilità e anche per come si muove secondo me è winston perché winston andiamo a vedere cosa fa winston winston c'ha un cannone tesla dove praticamente non dovete neanche mirare o quasi nel senso che colpisce tutti quelli che ha davanti fino al massimo suo range e quindi in realtà è abbastanza semplice avete bisogno di veramente poche skill di mira con winston è uno scimmione che si muove molto velocemente in questo overwatch 2 gli hanno aggiunto anche un secondo tipo di attacco che in realtà è ranged cosa che prima non c'era e una volta che colpisce colpisce anche tutti quelli vicini a lui winston quindi è molto mobile questo vi dà un vantaggio e appunto non avete bisogno di mirare particolarmente questo vi dà un altro vantaggio ha un pool di hp abbastanza ampio e appunto questo ipersalto dove potete saltare quella per la mappa e se arrivate sopra gli avversari fate anche un bel danno inoltre la barriera attiva il proiettore difensivo che è una mezza cupola che difende un'aria e ha un certo numero di hp la potete sfruttare soprattutto se entrate e uscite perché chiaramente chi spara il vostro alleato non non viene ovviamente assorbito del danno invece chi vi spara contro chiaramente va a daneggiare la cupola quindi potete giocare intorno a questa cupola secondo me winston è uno dei tank più semplici da comprendere per giocare a overwatch 2 tutti gli altri sono più o meno complessi o necessitano comunque una comprensione del gioco abbastanza più elevata perché per esempio reinhard che in realtà non spara ma ha la mazza grande e il mega scudone ecco questo è un tank in realtà che avete bisogno di saper ben giocare prima di utilizzarlo con un senso perché per esempio la carica se la sbagliate siete poi inermi e vi ucciderò anche abbastanza facilmente così come tenere lo scudo scegliere se tenerlo molto difensivo o no è una scelta che andate capendo col tempo quindi in realtà reinhard non è secondo me tanto buono per i nuovi giocatori un altro al massimo che vi posso consigliare è orisa perché orisa l'ho giocato un po ed è fortissima quindi secondo me è buona anche per i nuovi giocatori anche perché orisa c'ha questa macchina mitragliatore fusione potenziata che spara quasi all'infinito in realtà va in suo riscaldamento però spara tanto ma soprattutto orisa è incredibilmente tankosa ecco non è un gran movimento però può assorbire tantissimi danni può deflettere i danni col giovellotto può fortificarsi per avere ancora più salute e sparare ancora più veloce e poi addirittura con un giovellotto con uno skillshot può imparare gli avversari ecco orisa potrebbe essere anche una vostra potenziale scelta all'inizio proprio perché è molto molto solido come tank molto forte molto solido gli altri secondo me hanno bisogno comunque un po' della conoscenza del gioco andando avanti sui dps ecco chiaramente il dps più consigliato in assoluto è soldato 76 questo è abbastanza banale e anche quello che si usa nel tutorial perché soldato 76 è praticamente la copia di un soldato di un qualsiasi fps generico alla code avete tutte le abilità che di solito avete negli altri fps quindi avete lo scatto avete un fucile d'assalto hit scan quindi dove colpite dove premete istantaneamente arriva il colpo avete anche una cura da mettere a terra per curare voi anche gli alleati e avete una salva di razzi esplosivi che è un po' come il sottocanna lancia granate di appunto un battlefield o un code quindi è il perfetto prototipo del soldato da fps in più come ultimate avete il visore tattico che praticamente è un aimbot per un tot di secondi mirate automaticamente tutti quelli che avete nella vostra vista con tutti i colpi quindi è incredibilmente forte anche da questo punto di vista quindi soldato 76 a parte essere un ottimo dps a prescindere è anche sicuramente il più semplice da giocare per chi non ha mai giocato overwatch però voglio darvi anche un secondo dps diciamo così veramente easy da giocare e comunque molto forte secondo me è torbion qualcuno direbbe bastion ma secondo me è torbion tra quelli veramente facili facili comunque vi ricordo non vuol dire che non siano forti se giocato bene se masterate bene sono fortissimi torbion è quello che ha la torretta lo hanno cambiato da quando io giocavo a overwatch tempo fa e decisamente adesso è molto più forte lui che la torretta la torretta è utile ma non è fondamentale però l'avete e ovviamente la potete mettere in posizioni tattiche ideali protetta magari dietro qualche angolo in modo da poter fare danni extra ma di per sé lui è molto forte ha questo spara chiodi che comunque è un'arma a proiettili quindi c'ha una caduta e c'ha una percorrenza però è abbastanza veloce a sparare e ha due modalità di fuoco singolo e da shotgun chiaramente da shotgun è più per la breve distanza singolo per la lunga distanza ha ovviamente la torretta come detto che potete posizionare dove volete e poi ha questo sovraccarico che fornisce salute aggiuntiva aumenta la velocità di attacco, movimento e ricarica per un tot di secondi, mi pare 5 secondi siete estremamente forti e il cooldown non è neanche troppo lungo inoltre tra gli eroi dps di solito gli eroi dps hanno tipo 200 di vita lui ne ha mi sembra 350 una cosa del genere e può aumentarlo ancora di più con il sovraccarico quindi è molto tankoso per essere un dps come ultimate ha una modalità diciamo così della sua arma che crea pozze di scoria fuse che danneggiano i nemici e infligge danni aggiuntivi all'armatura quindi per un tot di secondi sperate questa molten core e innaffiate oltre a colpire direttamente i nemici il terreno con questa lava che dura per un tot di secondi e continua a far danno quindi è buona per fare una negazione di una parte di aria della mappa l'ho provato in questo world watch 2 e devo dire che è molto molto forte chiaramente magari più consigliato in difesa ma secondo me è molto forte anche in attacco soprattutto nei payload dove dovete alla fine difendere il payload anche quando avanza giusto? quindi in realtà è un attacco ma per certi versi è anche una difesa dovete difendere mano a mano il payload quindi secondo me soldato 76 e torbion sono ideali molto ideali per dei nuovi giocatori finiamo con i supporti qua ce ne sono un po' di meno come scelta e il supporto di solito è abbastanza critico come ruolo perché è quello che tipicamente cura e dà l'aiuto chiaramente al team sono secondo me tutti che hanno bisogno di un po' di skill per essere giocati quindi il più semplice in assoluto a mio avviso comunque rimane Lucio tra l'altro su Lucio ci ho fatto anche un bel po' di ore col vecchio overwatch e Lucio secondo me vince come eroe easy da giocare anche se come detto anche lui se è giocato bene è devastante questo perché? perché è easy? perché in realtà voi curate passivamente non dovete mirare qualcuno per curarlo non dovete usare abilità nel tempo giusto semplicemente dovete stare vicini al vostro team avete l'amplificatore sonico che spara anche questo dei proiettili quindi occhio dovete fare un po' di predict però se impilate i tre colpi che spara ogni volta anche in testa fa tanto tanto danno avete le vostre casse che suonano le canzoni e potete alternare la cura e la velocità quindi speed e cura cura e speed in più con la E volume al massimo potete amplificare l'effetto che state dando ai vostri amici quindi potete aumentare la velocità ancora di più di tutti oppure le cure ancora più di tutti in più avete onda d'urto che è ottima cosa che sbalza via abbastanza lontano le persone e quindi può essere usata anche per fare delle kill ambientali in quelle mappe dove ci sono dei burroni quindi magari qualcuno passa vicino al bordo se voi fate un'onda d'urto boom lo buttate di sotto quindi è molto divertente Lucio anche perché è molto mobile ha la corsa sui muri quindi con spazio quindi col salto e i muri potete correre sopra i muri e continuare a sparare e a avere insomma le vostre canzoni che stanno andando avanti tipicamente è veramente più easy a mio avviso perché come detto quando curate non dovete fare tanto altro che stare in vita e tenere più gente possibile vicina per curare tutti quanti e come ultimate avete barriera sonora che fornisce un amplificamento degli adhp quindi aumentate la salute di tutti di un bel po' per un tot di secondi quindi ottimo nel momento in cui dovete pushare per prendere un punto oppure se vi tirano addosso delle ultimate voi fate barriera sonora e tutto il vostro team se sei dentro il range ovviamente si alza di vita e cerca di assorbire i danni ancora meglio quindi sicuramente Lucio è il più facile da gestire come supporto ma può dare anche molte soddisfazioni proprio perché dato che le cure sono passive potete nel frattempo pensare anche a fare un po' di DPS e potete fare anche tanto DPS se siete precisi quindi è molto divertente giocare in generale tutti gli altri hanno bisogno di una certa insomma capacità anche di mira magari con Ana con Zeniatta che ha pochissima vita può fare tanto DPS però è complicato insomma giustirlo bene Mercy che sembra molto semplice perché alla fine dite Mercy cura solamente stand appiccicata agli altri si è vero ma dovete sapervi muovere con Mercy dovete sapere quando restare al momento giusto quando volare quando non volare dove posizionarvi quindi è vero che a Mercy potrebbe pure essere abbastanza semplice giocare però per giocarla bene Mercy dovete anche usare anche la pistola ogni tanto dovete sapere quando potenziare quando curare non è così semplice come seconda scelta forse mettere i Mercy in effetti come semplicità però è già secondo me più complessa di Lucio gli altri sono decisamente più complessi perché bisogna capire più meccaniche insomma questi erano un po' i miei due centesimi quindi alla fine secondo me Winston o Risa tra i tank Thorbjorn soldato 76 tra i DPS e Lucio e Mercy tra i support questi sono le mie scelte tra gli eroi diciamo più semplici per i nuovi giocatori che non conoscono minimamente Overwatch fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti chiaramente se questo video lo vede qualcuno più esperto può dire la sua accetto sicuramente suggerimenti però diciamo che questa è un po' la mia idea e con questo ragazzi è tutto ci becchiamo prossimamente qua sul canale per altri video sul gaming a 360 gradi come sempre statevi bene un saluto e alla prossima ciao ciao ciao